musica musica 3 2 1 1 1 2 3 2 1 2 Allora questo video si tratta di un haul Allora, ve lo ridico come in tutti gli altri miei haul che sono stati voti, però ve lo dico Allora, io faccio il mio haul da parte, cioè facciamo un video in video Perché chi ama il mio stile, segue chi è più piccola come me, segue anche me E allora gli piacciono le cose che acquisto io Invece tipo come Lalle che ha fatto il suo haul e ci sono le bambine più grandi della sua età che gli piace guardare il suo haul Quindi preferiamo fare così per anche voi magichini e magichini Quindi ora iniziamo Allora, ho fatto gli ultimi acquisti per le vacanze perché noi partiremo breve, anzi è brevissimo E voglio iniziare da 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 Allora, in pratica io sto cercando un sacco un cappello Un cappello E allora non ne ho mai trovato uno che mi spiega essere proprio questo, bello, sì, mai E allora ho deciso di prendere Questo qui della di da Ah, sì, raga, secondo me è la cosa più bella del mondo, cioè anzi ora la metto anche perché mi voglio vedere in telecamera Grazie, grazie, sono io Ok, c'è la dina ed è questo qui Bellissimo, quella di da sopra, bellissima, qui è tutto il buco del lato E poi io posso fare quanto voglio io, largo, stretto, corto, cioè, quello voglio io Ed ecco, questo è fatto Fa più cura, fa termina perché mi è staccato 13,95 euro Qui dentro deve stare Questo lo uso invece degli occhiali, sugli occhi Qui c'è questo coso qui che non so neanche come si chiama, visiera forse, wow Allora, iniziamo da Sir Zenith Da lì, secondo me, da qua, da Sir Zenith è iniziato a fare il shopping Comunque ho preso un costume Che mi è costato 6 euro, che ho pagato 6 euro, 45 euro Allora, questo qui è a monospalla Ed elasticissimo, tipo, è comodissimo E poi ci faccio il frutto, che è come quello E in green, non lo faccio vedere Cioè, è come quello E' la stessa, identica, precisa, fantasia di questo Quindi è inutile che ve lo faccio vedere E poi ho preso anche questo Poi, allora Poi sono andata da Coscia Sono andata da Cisalfa Io ho visto questi costumi che amo e adoro Che secondo me questi saranno e quelli la che sfrutterò di più E comunque iniziamo da 18-11 anni E poi, giusto che stavano in spunto Ho preso un altro paio di pantocole Perchè io ho anche quelle della Sandec E userò che sono anche queste di... Mistral Mistral Bene Bene E niente E che costano 9 euro e 99 9 euro e 99 In poche parole e 10 euro Brava Tal Brava Tal E sono queste Che porterò sempre in vacanza Cioè, come vi ho detto, questi sono gli acquisti per le vacanze Quindi Niente Però porterò tutti e due Poi, da quale parte sono decisissime Perché sono bellissime Allora Questa che ci sa Tra sempre Che ho preso un costume troppo bello Troppo colorato Troppo top Destratop Capite no? E qui Aspetta Vi faccio vedere il pezzo di sopra Che è uguale al pezzo di sotto Raga Non so se avete visto qualcosa Raga E questo qui a triangolini Di questi colori qui Bellissimo Aspetta Mi sa che... No Ed è bellissimo raga Io adoro Infatti Più lo guardo Più dico Oh mio Dio quanto è bello Era l'ultimo Mi sa perché non ne avevo visti altri Aspetta che ce l'ha fatto sotto questo Forse si Hai ragione Ho sempre ragione 17 euro al 45 Quindi questo è costato 17 euro al 45 Poi passiamo all'ultimo pezzo Sempre costume Perché in realtà sono chiesi per i costumi E ho deciso di poi darmi alla ricerca Secondo me Se non era per il costume Io e Zenith Io non avevo preso niente Perché io da lei inizia la prima Allora poi da coscia Da coscia Ho preso un altro costume Che costato 27 euro Allora ho fatto il braccio in aria Allora se potete vederlo 3 2 1 E' vero che mi faceva mai la mano ieri Vero? 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 Malissimo E' il melano Ho bisogno nella bustina Che carino Mi piace troppo Dov'è il pezzettino? Ho preferito prenderlo a triangolini per un motivo perché quello la peperoncini irritava qui sotto E allora ho preso i triangolini ed è questo qui fantastico C'è Non lo so C'è Fantastico Io più Vedi? E' come quello C'è i colori sono Sono di qui Li confrontiamo Allora C'è verde C'è anche questo Giallo Scuro Non ce l'ha C'ha il verde acqua un po' scuro Poi Blu Ce l'ha Rosa Più fucsia che rosa Poi fucsia c'è Arancione C'è Ma questo è infinito Cioè ha più colori di questo Ha meno colori di questo Quindi Io li amo tutti e due Io li amo Ed è bellissimo Ora Lo chiudiamo Per non C'è Oh In questo posso mettere tutti i miei costumi E dai Quelli io li voglio mettere No Mi vuole bene la vera Ci vuole di sesamo Non si chiude Non si chiude Di solito quando Allora c'è una quella ragione Che è una Ok ora No Quindi 3 2 1 Go Quindi ragazzi questo è il video Spero vi sia piaciuto A me è piaciuto tantissimo Iscrivetevi a Io sono MarcheGiuliaKawai Traserlo su Facebook MarcheGiuliaKawai Su TikTok MarcheGiuliaKawai E poi Niente Eh Se volete le fai Le cose 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 Grazie a tutti.